Ben ritrovati a Tech Magazine, rubrica settimanale del Polo Tecnologico Lucchese. Questa è una puntata realizzata in collaborazione con PONTEC, il Polo Tecnologico di Ponte d'Era. Ed è proprio da Ponte d'Era, in collegamento al nostro ospite, che saluto, si tratta di Marcello Chiurazzi. Ciao Marcello! Salve Valeria, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Marcello, tu sei il direttore tecnico di una delle divisioni dell'azienda Mediate, che lavora nel settore della robotica attraverso delle applicazioni di natura medicale o di natura più prettamente industriali. Ti chiedo di farci una brevissima presentazione dell'azienda stessa. Sì, certo. Allora, Mediate è una piccola realtà aziendale, nata circa tre anni fa, e diventata da subito spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna. Proprio grazie a questa forte interazione con la scuola, l'obiettivo dell'azienda è stato quello di traghettare i risultati più promettenti a livello di ricerca sul mercato, chiaramente attraverso il loro processo di ottimizzazione e di industrializzazione. Diciamo che l'obiettivo della spin-off è quello di umanizzare la robotica, rendendola di facile utilizzo per l'operatore finale. Ecco, prima ho accennato, ho detto che ci sono diverse divisioni all'interno dell'azienda, ti chiederei, in particolare tre se non mi sbaglio, ti chiederei di farci degli esempi di applicazioni realizzate nell'ambito delle prime due divisioni. Certo, allora, la prima divisione è quella che si occupa principalmente di aspetti di natura robotica, prende il nome di Mediate Robotics e è gestita da Andrea Firincelli. L'applicazione di cui mi piacerebbe parlare è Mobot, un robot mobile che abbiamo sviluppato all'interno di un borgo toscano per la consegna a domicilio di beni di primaria necessità. In questo borgo toscano gli utilizzatori, i cittadini, attraverso una semplice app per cellulari, possono eseguire, effettuare una lista della spesa contenente farmaci tra natura e riceverla a domicilio in maniera completamente autonoma da parte di Mobot che, completamente in maniera autonoma, si muove all'interno del distretto del borgo toscano. La seconda divisione invece è quella più concentrata su aspetti di natura medica, prende il nome di Mediate Medical ed è gestita invece da Gastone Sciuti, che è uno dei fondatori dell'azienda. e l'applicazione di cui mi piacerebbe parlarvi in questo caso si chiama Endoo, che è un progetto finanziato dalla comunità europea all'interno del programma Horizon 2020 e dove Mediate, assieme ad un intero consorzio, ha sviluppato una piattaforma robotica per colonoscopia in dolore. Ecco, molto interessante, molto utile. Devo dire che la mia simpatia va al robottino che consegna la spesa, anche se ovviamente è molto utile anche la seconda applicazione che avete sviluppato. Allora, ho lasciato da parte la descrizione della terza divisione, perché vorrei che l'approfondissimo. Se non erro si chiama Perception. Ti chiedo quindi di partire dal nome, cosa significa, e poi di parlarcene. Certo, allora, diciamo che la divisione Perception, che è quella poi che è gestita da me, vuol dire percezione in italiano. Quello che noi abbiamo visto lavorando nel mondo della robotica è che chiaramente ad oggi continuare a parlare di robotica collaborativa, in cui quindi l'operatore umano si trova a collaborare, a cooperare con l'elemento robotico, e per fare un qualcosa del genere è necessario garantire la sicurezza verso la componente umana. Per questo motivo quello che noi stiamo sviluppando già da un po' di tempo è una vera e propria pelle sensorizzata con cui andare a rivestire i robot al fine di permettere al robot stesso di essere a conoscenza dell'ambiente circostante, andando così ad evitare collisioni o semplicemente situazioni potenzialmente critiche per la componente umana, per l'operatore. E chiaramente questo è un progetto ad ampio respiro, quindi ci vorrà un po' di tempo per iniziare ad avere i primi prototipi realmente funzionanti in maniera robusta, tuttavia ci ha permesso di sviluppare e integrare nuove tecnologie come appunto quella di Extrasense, che è una tecnologia a base capacitiva utilizzata per l'interazione appunto con l'operatore, con l'utente. Mi piacerebbe che tu spiegassi la tecnologia Extrasense anche attraverso l'ausilio di alcune immagini, quindi chiedo alla regia di mandarle in onda. Prego. Sì, Extrasense è nata per interagire con la componente umana, con l'operatore, che può essere integrata in una qualsiasi, anche a scomparsa, quindi tipo intercapedini del muro, piuttosto che un qualsiasi tavolo da lavoro. e ciò che viene chiesto all'operatore è quello di eseguire una traiettoria con la mano. A questa traiettoria viene associata un'azione e in condizioni poi di normale utilizzo del dispositivo, se l'operatore interagisce con il dispositivo eseguendo la traiettoria in maniera errata, allora la tecnologia restituisce un feedback visivo attraverso dei led rossi che fanno intendere appunto una traiettoria, una combinazione sbagliata. Qualora invece la combinazione fosse giusta, abbiamo anche in questo caso un ritorno visivo attraverso dei led verdi e automaticamente l'azione viene eseguita dal dispositivo. Chiaramente quindi Extrasense si avvantaggia di tutto il progresso tecnologico attuale attraverso appunto tutti quei dispositivi smart collegati in rete, come ad esempio luci, piuttosto che sistemi di condizionamento, piuttosto che sistemi di allarme, per dare la possibilità all'utente, così come diciamo un maestro di orchestra, di controllare i vari dispositivi all'interno appunto della propria abitazione con il semplice movimento della mano. Benissimo, ti ringrazio Marcello, ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato e soprattutto per il lavoro che state facendo e che stai facendo con Mediate. e nel frattempo mando anche in sovrimpressione i vostri contatti in modo tale che tutti sappiano dove raggiungervi. Ti saluto, ciao Marcello. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie a te e a tutti voi. Do appuntamento invece alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie a tutti.